Appena 10 euro per ascoltare la poesia musicale di Fabrizio De Andrè, portata sul palco dalle voci di Sergio Mello, Giulia Bello e Chiara Saurio e da musicisti di livello nazionale come Riccardo Notarpietro, Cristian Romano, Gianluca Milanese, Luca De Prisco, Fabrizio Morrone, Alex Semprevivo. Insomma un tuffo nel mondo di De Andrè che l'associazione di Alfredo Fiorentino e Neve Walter regala al pubblico per raccogliere fondi per lo screening oncologico. E' un'iniziativa che abbiamo preso insieme all'associazione Anne e Walter per aiutare la ricerca ospedaliera per la prevenzione sul tumore femminile al seno. Quindi ci teniamo molto, è un'occasione molto importante e abbiamo deciso di affiancare a questa iniziativa di raccolta fondi questa bellissima, questo festival diciamo così di Andrè per ricordarlo proprio nell'anno dei 25 della sua morte. Vi aspettiamo venerdì alle 20.30 al DB d'S Cineteatro Salesiani e alle 8.30 non vi pentirete, non vi pentirete di nulla.